Salve ragazzi, volevo fare un video praticamente molto significativo e leggermente pesante, vi spiego. Praticamente qua nella nostra zona, a Salermo, sta chiudendo il centro master living, ovvero come lo volete chiamare, lo chiamate di vostri, Tony. E' aperto da molti anni, moltissimi anni, e sta chiudendo per fallimento. Peccato di tutti i soldi. Adesso io dico, allora, come si fa a chiudere un centro così veramente grande e così comunque molto... Vestatemi tra io un attimino. E' così molto importante comunque anche nelle vendite che vende un po' di tutto, è come l'expert. Vende tipo elettrodomestici, telefonia, cose così. Come cazzo fa a chiudere? Io ho la risposta. E' benissimo. La gente parla tanto di crisi, ma io penso che questa crisi non esista proprio, vi spiego il perché. Se voi andate in un centro commerciale, specialmente sabato o la domenica, voi la direte a altro che crisi, gente che compra a destra manca, non può entrare nemmeno nei negozi e la gente spende, e come si spende. Senza nulla contare che, secondo me, tutte queste cose, tutti questi bar, tutti questi comunque fatti alla ristorazione e anche i centri importanti come elettrodomestici stanno chiedendo, tutta a causa, secondo me, per i centri commerciali. Solo sulla Palermo ci sono tre centri commerciali, ovvero il Forum, la Conca d'Oro e l'Expert. No, è la Torre, scusate. Comunque, vicino a Palermo, per c'è un altro, si chiama Poseidon, che è in provincia di Palermo, è molto vicino, e a Carini. In dieci minuti si arriva in autostrada. Secondo me, loro stanno portando al fallimento, perché, se lo so, il centro commerciale è composto a qualche grande di 115 negozi, ovvero il Forum, poi ce n'è altri dai 90, se non sbaglio, passati. E' normale che la gente, per non vedere sempre i stessi posti, cambi, oppure non trovano la convenienza e quindi vanno. Quindi, altro che crisi, ragazzi, questa non è crisi. Cioè, io penso che su un miliardo di famiglie, su tanto un cento potrebbe viaggiare nella crisi. Cioè, io sono morto per morto che sta chiudendo questo centro di vostri, perché, cioè, là ho vissuto tutta, si può dire, la mia infanzia, ecco, adolescenza pure. Da bambina, entravo molto là dentro, e acquistavamo anche solo per prendere gelati, entravo molto là dentro, era una cosa fantastica. E vedere che un centro comunque così grande è sul fallimento e sta per chiudere, è una cosa veramente giusta. Penso che i centri commerciali oramai abbiano la meglio, e che comunque domineranno ovunque l'oro, da oggi in poi, secondo me. Perché, tra l'altro, è normale che la gente ci va. Io ho visto adesso, 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 più che mai, che ci sono gli sconti. Questo è del centro commerciale La Torre. Il centro commerciale della Torre è arrivato oggi. Cioè, una macchina fotografica messa a 39,99 euro, che prima era messa a 69,99 euro. Già questi sono prezzi buoni, marca HB. Altri sconti, vediamo un pochettino. Quella di Sori, sconti di 100 euro. Prima era questo 3,99 euro, ora 2,99 euro. Cioè, i centri commerciali hanno vinto. E mi dispiace molto per tutte quelle persone che comunque dovranno perdere il posto di lavoro, perché comunque mi dispiace. Ma, secondo me, da oggi in poi, i centri commerciali li hanno metteranno a tutti nel culo, ecco. Scusate la volgarità, adesso io chiudo, ma era una cosa che dovevo dire. Se anche voi la pensate come me, mi piace o condividete il video. E niente, un bacione a tutti. Ciao ciao!